Nei giorni scorsi i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno arrestato un soggetto pluripregiudicato residente a Cicciano, a Napoli, durante un'operazione di controllo economico del territorio. Il provvedimento è scaturito dall'attenta attività del gruppo di Nola, che ha individuato un manufatto di cemento abbandonato in una zona rurale, utilizzato dall'arrestato come deposito di merce illegale. All'interno del deposito sono stati rinvenuti circa 2,5 kg di hashish suddivisi in panetti, 400 euro in contanti, una pistola calibro 7.65 con matricola a brasa e caricatore rifornito, 71 munizioni di vario calibro e due ordigni esplodenti artigianali. L'hashish, se venduto, avrebbe fruttato un guadagno illecito stimato di oltre 60.000 euro. Tutto il materiale è stato sequestrato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria di Nola, con il supporto delle unità specializzate della Polizia di Stato, incaricate anche del disinnescamento degli ordigni. Il responsabile, noto per gravi reati quali estorsioni e tentato omicidio, è stato arrestato in flagranza di reato e trasferito presso la casa circondariale di Poggio Reale, su disposizione del PM di turno. Il provvedimento è una misura cautelare temporanea, limitativa della libertà personale dell'indagato, che resta presunto innocente fino a sentenza definitiva.